Qualità, innovazione e sviluppo sostenibile delle aree rurali. Di questi gli obiettivi del settore agricolo in Toscana e fulcro della terza conferenza regionale dell'agricoltura organizzata dalla Regione al Real Collegio di Lucca. Un'occasione per un confronto sullo stato di salute e sulle prospettive dell'agricoltura e delle aree rurali sviluppatosi attraverso una sessione plenaria e cinque tavoli di lavoro tematici che per due giorni hanno animato il Real Collegio. Due giorni che hanno coinvolto le istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee rappresentate dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Luca Sani e dal commissario europeo all'agricoltura e allo sviluppo rurale Phil Hogan che ha iniziato il suo tour in Italia proprio da Lucca. Il commissario europeo è stato accolto dall'assessore regionale Marco Remaschi e dal sindaco di Lucca Tambellini e prima di incontrare la stampa è andato sulle mura per ammirare uno spettacolo inusuale. Una squadra di butteri alla guida di un gruppo di una piccola mandria di mucche maremmane, un fuori programma promosso dall'assessore Remaschi per mostrare al commissario europeo un aspetto concreto e autentico della tradizione rurale toscana. La conferenza regionale dell'agricoltura è stata l'occasione per gettare le basi su cui lavorare e con particolare attenzione al futuro delle politiche agricole europee verso la nuova PAC, la politica agricola comune del 2020. La regione toscana in un anno e mezzo ha già stanziato 624 milioni di euro su un totale di quasi 962 per il programma di sviluppo rurale e regionale principale strumento di finanziamento delle politiche agricole approvato nel 2015 per coprire un periodo di 7 anni dal 2014 al 2020. Ma adesso si pensa al nuovo settennato, queste le richieste della regione all'Unione Europea. Innanzitutto che sia riconfermato nel prossimo settennato gli stessi finanziamenti, almeno se possibile qualcosa di più e poi che si tenga conto, come già si è iniziato a fare nel settennato che stiamo attraversando, di quella che io chiamo l'agricoltura di qualità, l'agricoltura non estensiva, noi abbiamo un territorio collinare al 90%, la coltivazione dei territori collinari richiede un impegno, un investimento e una quantità di lavoro ben superiore che la cultura estensiva. Quindi esiste un braccio di ferro tra noi e i grandi paesi europei su come indirizzare, su come parametrare. Nell'ultima tornata ne siamo usciti piuttosto bene e credo che anche per il futuro dobbiamo insistere su questi punti. L'altro aspetto è di sostenere e finanziare l'internazionalizzazione e difendere i prodotti di qualità. Prodotti di qualità, come è stato sottolineato durante la conferenza regionale, che possono essere la leva per abbattere i muri del protezionismo. La conferenza regionale infatti si è svolta in un contesto politico globale caratterizzato dall'incertenza all'interno dell'Unione Europea, come la Brexit con la fuoriuscita del Regno Unito, ma anche dalle politiche di protezionismo del neopresidente statunitense Donald Trump. Credo che piano piano, se noi riusciremo ad internazionalizzarci in maniera adeguata, attraverso anche un buon utilizzo dei finanziamenti europei che ci sono, e se faremo conoscere i nostri prodotti, non abbiamo da temere davvero la globalizzazione. La globalizzazione deve essere invece regolata sull'aspetti qualitativi, sugli ingressi che sono problematici per tanta nostra agricoltura, e anche sugli aspetti finanziari che sono quelli che in certe situazioni mettono fuori mercato i nostri prodotti, e questo non è possibile, non è giusto. La Toscana esporta i suoi prodotti agricoli di qualità, soprattutto in questi due stati, ma questo non preoccupa il commissario europeo Philogan, che ha fugato ogni dubbio sui rischi del protezionismo. Esportiamo in tutto il mondo e tutti vogliono i prodotti di alta qualità di provenienza europea. Trump ha voluto mettere l'America davanti a tutto, questa è una scelta sua, così va il mondo, però stiamo vedendo che nonostante ciò che dice Trump, i cittadini americani continuano a volere prodotti europei di alta qualità. Speriamo che non esageri con tasse e dazzi, perché i cittadini americani continueranno ad esigere sulle loro tavole i prodotti europei. La richiesta della Regione di confermare le risorse per l'agricoltura con la prossima programmazione della PAC è soprattutto rivolta a sostenere le grandi sfide che attendono il comparto. Che sono necessarie se vogliamo affrontare con forza e determinazione le nuove sfide dei mercati globali, se vogliamo affrontare con forza e determinazione il processo legato al ricambio generazionale, il dimensionamento delle aziende, lavorare su innovazioni di processo, quindi fare in modo che le aziende si aggreghino per affrontare in maniera più forte la globalizzazione dei mercati e le risposte che devono fare. Dobbiamo rafforzare le filiere, che spesso sia per quello che riguarda la filiera lunga che è rivolta al mercato della grande distribuzione, sia le filiere corte che sono invece più identificative dei territori locali. Abbiamo bisogno di migliorare sotto l'aspetto di una presenza più forte dei nostri prodotti in alcuni mercati sui quali ancora abbiamo necessità di penetrare, dobbiamo fare politiche di promozione. Per il presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera, Luca Sani, intervenuto anche lui a Lucca, bisogna tutelare, tracciare e rafforzare i prodotti agroalimentari italiani e sfruttare la distintività di quelli toscani considerati simbolo del settore a livello mondiale. Con più Toscana diciamo che c'è più agricoltura italiana. Nel mondo il prodotto toscano, il prodotto italiano è richiesto e pensiamo che con un rafforzamento anche di questo messaggio, di questa immagine possiamo dare più forza ai prodotti del nostro export. Ricordiamo che complessivamente l'export agroalimentare italiano è ormai a 38 miliardi di euro, uno delle principali voci della bilancia commerciale italiana. Ecco, il valore è la distintività e la Toscana da questo punto di vista è sulla strada giusta. Quella di un'agricoltura innovativa e di qualità infatti può essere la soluzione per uscire dalla crisi, crisi che ha attraversato anche il settore agroalimentario della Toscana, ma che adesso si avvia ad una vera fase di rilancio. Un'agricoltura che sa posizionarsi sui mercati e far valere le proprie produzioni di qualità. È ciò che emerge dalla foto del comparto scattata da Irpet e presentata a Lucca. Questo elemento di ulteriore dinamismo rispetto a degli anni di difficoltà che sono stati appunto 2010-2012, intorno a quel triennio si vede, si vede da diversi punti di vista. Le occupazioni, le esportazioni, i valori della produzione, la razionalizzazione dei costi all'interno delle imprese. È un segnale probabile di una capacità delle imprese di riposizionarsi sui mercati e di aver superato anche l'elemento delle difficoltà della crisi di fine decennio. Aspettiamo i prossimi periodi, ma i segnali sono senza altro segnali positivi. Da quello che emerge dallo studio di Irpet in Toscana ci sono meno aziende, ma di dimensioni un po' più grandi delle circa 80.000 del 2006, se passate alle 70.000 del 2016. Attualmente il valore aggiunto di agricoltura e agroalimentare toscano ammonta a 3,2 miliardi di euro. Il primato spetta al vino, con una produzione che è aumentata del 20%. Per quanto riguarda l'export, il settore agricolo ha avuto una ripresa del 5% nel 2016. Nel discorso finale della conferenza agricola regionale, l'assessore Marco Remaschi ha sottolineato che per la nuova PAC sarà essenziale introdurre nuovi criteri capaci di qualificare un'agricoltura come quella toscana, che si sviluppa in larga parte su terreni montani nel 25% e collinari il 67% e solo per l'8% in pianura e che quindi affronta più difficoltà. Come può aiutare quindi l'Unione Europea l'agricoltura di montagna e collina? Stiamo già facendo tanto, effettivamente eroghiamo dei pagamenti abbastanza cospicui ma diamo dei supplementi di sicuro alle zone di montagna e collina svantaggiate per altri motivi. Lo ha detto l'assessore, io condivido assolutamente il suo pensiero che sia importante collaborare l'Europa con gli stati nazionali, con gli assessorati regionali per far sì che le zone svantaggiate beneficino di ancora più sostegno ed aiuto da parte dell'Europa e soprattutto sensibilizzare i giovani sugli importantissimi motivi che sussistono affinché loro rimangano lì e facciano l'agricoltura di montagna o di collina. Quindi io porterò avanti un lavoro di collaborazione con i ministeri e con gli assessorati a livello regionale lavorando sempre su quel filone di cui parlavo di una PAC post 2020 sempre più forte. La Toscana investe per incentivare il cambiamento generazionale data l'elevata età media degli agricoltori che all'ultimo censimento risulta di 62 anni. In previsione della nuova PAC 2020 c'è bisogno quindi di poter investire per l'occupazione per il ricambio generazionale incentivando l'uso degli strumenti finanziari e potenziando le opportunità di accesso alla terra per i giovani. C'è bisogno di maggior ricambio generazionale, noi già in questa programmazione abbiamo investito molto, abbiamo la consapevolezza che dobbiamo fare ancora di più, porremo una questione anche sulla nuova PAC 2020 se non sia il caso di utilizzare risorse sia del primo che del secondo pilastro per favorire il ricambio generazionale e poi abbiamo bisogno di un dimensionamento aziendale diverso da quello attuale, abbiamo bisogno di maggior aggregazione voglio dire da parte delle nostre imprese per essere più competitive con il mercato globale, dobbiamo favorire le filiere e fare in modo che effettivamente la nostra agricoltura e i nostri agricoltori crescano. Per far questo c'è bisogno che possano avere reddito, avere più reddito di quello che non hanno ora e quindi cercare di investire e di essere competitivi con il mercato globale. Grazie per la visione!